Cari amici, vi invito a iscrivervi sul mio piccolo canale YouTube, visto che stanno togliendo le iscrizioni ai grandi e ai piccoli YouTuber, cerchiamo di fregarli. Per il resto vi volevo semplicemente far vedere, e spero che si riesca a vedere, i dati dal sito ufficiale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Le terapie intensive con pazienti Covid sono al 24%, 24%. Quindi dove sarebbe l'emergenza sanitaria? C'è scritto e concordo, dov'è questa supposta emergenza sanitaria? E quindi è evidente che il lockdown è una decisione politica, solo politica. Guardiamo proprio i dati ufficiali, ripeto, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La rilevazione è otterna, praticamente di ieri, dati del 14 febbraio 2021, ed eccolo qua il grafico. Ci dimostra che siamo al 24%, sotto il 30%, che viene considerata già una situazione allarmante, ma vedete, rimane solo un 30%, quindi davvero ci si è tenuti molto bassi. Il 30% sarebbe già poco. Noi siamo molto sotto, siamo al 24%, e quindi ditemi davvero, ragionate un po', dove sarebbe questa supposta e ipotetica, molto ipotetica, emergenza sanitaria. Ragioniamo, ragioniamo con i dati. Grazie e alla prossima.